E allora, professor Cacciari, cominciamo con una domanda doppia. La prima che valutazione dà di questa incriminazione, di questo arresto, seppur breve, formale, di Donald Trump e del comizio che ha fatto questa notte, che tutti si aspettavano che fosse esplosivo, invece è stato tutto sommato molto pacato, molto trattenuto. Sì, visto che l'accusa specifica non ha sortito alcun effetto, per quale motivo mai avrebbe dovuto alzare i toni. Credo che dal punto di vista pubblicitario, per lui, tutta questa cosa con la signorina, come si chiama, sia tutto sommato servita, perché è un vecchio discorso che noi italiani dovremmo sapere molto bene. Non si fa politica, non si risolvono i problemi politici con iniziative giudiziali. È una tattica completamente sbagliata, controproducente. Si fa politica, l'avversario politico si deve combattere con strumenti politici, altro che con le accuse di essere andato a puttane con rispetto parlando. Questo è un vecchio discorso, dovremmo saperne qualcosa noi italiani, no, mi pare? Sì, sì, certamente. Noi abbiamo su questo piano un'esperienza decennale, direi. Ma non abbiamo mica imparato granché, perché vedo ancora attacchi a Trump su questo piano qui, che è ridicolo. Trump ha preso, appunto, come dice nel comizio, milioni di voti, perché gli altri hanno smottato completamente molte aree, molte stati americani, hanno smottato completamente di ogni consenso nel ceto medio, nel ceto operaio. E Trump ha vinto lì. Ci può piacere o non piacere, ma Trump ha vinto lì. Ha vinto perché i democratici, con tutto il loro apparato, anche di rapporti sindacali, sono stati sconfitti clamorosamente a livello di ceto medio e di classe operaia. Questa è la realtà. Quindi se i democratici vorranno vincere la prossima volta, dovranno fare politica su questi piani. E non basterà fare politica estera, di cui poi magari parliamo. Ma devono fare una politica interna che soddisfi questi ceti popolari di massa che hanno votato Trump e che lo voteranno di nuovo se sarà candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Sembra quasi la fotocopia di quello che ha vissuto la sinistra e sta vivendo la sinistra qui in Italia. Bravo, esattamente. Prego, prego. Esattamente, esattamente, esattamente. Ma noi non impariamo mica mai niente. Noi, noi dico, io, diciamo, ecco, la mia parte, diciamo, sinistra, centro-sinistra, è maestra nel non imparare nulla. La cosa curiosa è che se davvero ci fosse stato un appiglio al quale aggrapparsi, che poi non era un appiglio da poco, era, diciamo, quell'incitamento che lui diede alla folla un attimo prima dell'assedio a Capitol Hill, no? Quello, quello semmai, quello semmai, quello semmai era una grave colpa, perché un capo dello Stato e uno che voglia tornare ad essere il capo di uno Stato non può essere a capo di una sedizione, di una ribellione, è chiaro, no? Vi è una contraddizione logica nella cosa. Detto questo, però, occorrerebbe che, da una parte, denunciare chiaramente il comportamento di Trump e denunciarlo in modo duro e vedere anche lì iniziative certamente anche sul piano giuridico-legale per un comportamento di questo genere. Ma nello stesso tempo, beh, abbiamo visto, lei le ha mostrate quelle immagini. Quelle immagini sono tremende da tutti i punti di vista, cioè denotano un malcontento, una frustrazione, un odio a livello di massa che dovrebbero preoccupare ogni vero democratico. Ma quali sono le cause di tutto questo? Come mai si è arrivati a questo punto negli Stati Uniti d'America? Un assedio alla Bastiglia negli Stati Uniti d'America? Ma com'è possibile essere arrivati a quel punto? Invece quello che è stupefacente nei democratici americani, come le sinistre o centrosinistre europee, è la totale assenza di autocritica. Possono subire le sconfitte più cocenti, possono subire le debacche più incredibili, ma va sempre bene. Cioè, noi non abbiamo responsabilità. Noi siamo per definizione innocenti, non facciamo mai i conti con le travi nel nostro occhio. I peli negli occhi dei Trump siamo bravissimi a scovarli tutti. Le travi nel nostro non esistono. Però io mi piacerebbe che ragionassimo insieme sul fatto che comunque la democrazia americana si è fondata ed è cresciuta anche sulle regole, no? E quindi, voglio dire, queste regole poi impongono che se sono infrante come le ha infrante, anche se per uno scandalo sessuale in qualche modo dovrebbero essere rispettate. Quindi dal punto di vista, no? Dal punto di vista, diciamo, di quello che sta facendo l'accusa in questo momento a New York, non ci sarebbe nulla da dire, no? Nulla, 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 ma infatti sono accuse che non producono nulla politicamente e finiscono in un nulla di fatto. Magari dopo anni, come è successo in qualche altro paese, no? In qualche altro paese vicino a noi. Dopo anni è successo, beh, non c'è stato nulla. Sì, sì. Sì, infatti. Dopodiché, se vuole la mia opinione, ritengo incredibile che uno possa diventare presidente di un Consiglio in un paese democratico, incredibile che possa arrivare al punto uno che tra i comportamenti di un Trump e di qualcuno anche più vicino a noi possa diventare presidente del Consiglio o presidente di un grande Stato democratico. ha dell'incredibile, ma questo mi interroga, come è possibile che le nostre democrazie abbiano funzionato in modo tale da giungere a eleggere un Trump, eccetera, eccetera? Come è possibile? E questa è la domanda che dovremmo farci da sinceri democratici. Non è forse questo il sintomo di una crisi profonda del funzionamento delle nostre democrazie? a me pare non normale, ma assolutamente folle che una persona come Trump possa diventare presidente degli Stati Uniti. Ma questo non è colpa di Trump, è colpa chiaramente di un sistema, di un meccanismo, di procedure democratiche che non funzionano più. Ma questo è il punto, capisce? Questo è il punto. I paesi occidentali vivono una profonda crisi delle democrazie rappresentative. Lo vado dicendo da anni, lo andiamo ripetendo. Tutti quelli che studiano lo sviluppo, i processi sociali, politici, istituzionali delle nostre democrazie, lo stanno dicendo, lo stanno denunciando, lo stanno esaminando, ma la politica non recepisce. Non recepisce. Post festum dice che ha vinto la Meloni, ha vinto Trump, ha vinto Berlusconi. Vabbè, hanno vinto. Hanno vinto. Perché? Che cosa ha permesso questo? Quindi, voglio dire, dobbiamo dare per scontato che esista una profonda crisi della democrazia, delle democrazie. Certo, ma certo, ma certo, ma certo, ma certo. E soprattutto in Europa, dove i nostri stati hanno dimensioni tali da non poter contare da soli. E quindi in Europa non c'è soltanto la crisi delle democrazie rappresentative all'interno dei diversi strati, ma c'è anche una crisi politica dell'Unione Europea. Perché in Europa ormai politica, politica nel senso vero del termine, che significa politiche sociali, politiche estere, politiche di sicurezza, politiche nel senso vero del termine, ormai non sono più praticabili all'interno dei diversi stati territorialmente determinati. O vi è una politica europea, o non vi potrà mai più essere una vera politica italiana, ma neanche francese, ma neanche tedesca, non vede ora? E quindi noi scontiamo non solo una crisi del sistema, delle procedure democratiche analoghe a quella che vediamo magari oggi negli Stati Uniti, ma scontiamo anche quest'altro fatto, che noi potremmo essere la democrazia migliore del mondo, che non potremmo contare come Stato. Perché possiamo contare in Europa soltanto come Europa, nel campo delle politiche, soprattutto delle politiche di sicurezza, delle politiche internazionali. E l'Europa da 30 anni non ha alcun ruolo. Prima sentivo che parlavate di Europa, Trump, Biden, eccetera. Ma la verità è, la verità conclamata in questa fase storica, è che l'Europa non ha alcun ruolo. Non ha avuto un ruolo nel prevenire la guerra ora, come non ha avuto nessun ruolo in Afghanistan, come non ha avuto nessun ruolo nelle primavere arabe, come non ha avuto nessun ruolo in Iraq, eccetera, eccetera, eccetera. L'Europa è 20-25 anni che non ha un ruolo politico. Ne aveva ancora nella fase, anni 90, di costruzione dell'Euro. Tutti guardavano l'Europa pensando che l'Euro fosse la prima tappa di un processo di unità politica. e da 20 anni a questa parte, dall'Euro in poi, da più da 20 anni, l'Europa non ha alcun ruolo. È conclamato questo, ma non ce lo diciamo. Guai a dirlo. Bestemmia? No. È come no. In Iraq, zero. Primavera e arabe, zero. Immigrazione, zero. Guerra in Ucraina, nessuna politica preventiva e ora assenza totale di una voce europea. Ma vogliamo scherzare? In Ucraina c'è l'Europa, in Ucraina c'è Biden, cioè gli Stati Uniti, meglio la Nato, e la Russia e la Cina all'ombra, in lontananza. Vera protagonista non visibile, non perfettamente osservabile, pronta a sfruttare ogni occasione per rafforzarsi appunto dello sconto tra Nato e Russia. Questa è la realtà. Ma dirla, bestemmia, dirla. Ma è conclamata, sono dati di fatto. Di cosa andiamo in cerca. Ecco, ma da questo punto di vista, la riporto un momento in America. Cioè, noi siamo stati abituati a delle sfide epiche nella campagna presidenziale. Cito come esempio quella tra Kennedy e Nixon. Oggi abbiamo due esponenti, uno repubblicano che è sicuramente più temuto che amato e un altro democratico che ormai è alla soglia degli 80 anni con evidenti segni di stanchezza, diciamo così. È possibile mai che un paese come l'America non riesca a esprimere una nuova classe politica, dirigente, con una visione, con un approccio diverso anche rispetto al mondo per come è cambiato? Questo che lei indica è un segnale di grande preoccupazione perché è chiaro che sia Biden che Trump per versi diversi sono entrambi i rappresentanti dello stravecchio, non c'è dubbio alcuno. Ma non per questioni di età, ma per questioni anche di impostazione politica, e di strategia politica. Biden rappresenta una certa cultura democratica a tutta ancora orientata anche ad un'egemonia americana che non fa i conti con la necessaria organizzazione di un policentrismo, di una riorganizzazione degli equilibri politici internazionali sulla base di una strategia policentrica perché appunto o vai in una prospettiva di guerra o se no ormai devi renderti conto che ci sei tu, che c'è la Cina, che c'è l'India, che c'è magari il Brasile. Insomma è una prospettiva policentrica che deve affermare, non ribadire la tua volontà di una egemonia globale americana, è assurdo, insomma è un impero che deve ormai fare i conti, quello americano, con altri imperi, e o trovi un equilibrio, oppure attraverso guerre parziali, guerre locali, guerre per interposta persona, si minerà con l'andare al disastro generale. Quindi da un lato una vecchia strategia di politica estera e anche di radicamento sociale. Dall'altro Trump, naturalmente è inutile Trump, cioè una destra con elementi razzistici, con elementi, con una sottovalutazione totale della dimensione dei diritti, eccetera, eccetera, sfigurarsi, insomma dal mio punto di vista è l'impresentabile. Ma dall'altra parte c'hai una strategia decrepita, fallimentare, e quindi è una prospettiva drammatica. Speriamo che in vista delle elezioni, sia i repubblicani che i democratici, che i democratici riescano a tirare fuori dei competitori adeguati. Io mi auguro che possa emergere una candidatura in campo democratico, in grado di affrontare prima di tutto il grande tema della guerra, disinnescando questa atomica che stiamo maneggiando con assai poca cura, e impostare una strategia di rapporti internazionali, di riequilibri nei rapporti internazionali, che disinneschi quello che poi è il conflitto strategico che gli Stati Uniti dovranno comunque affrontare. Sperando che riescono a ridurlo sul piano della competizione commerciale, economica, tecnologica. Un presidente americano che riesca appunto a risolvere il conflitto in Ucraina e dall'altra parte a impostare con la Cina un rapporto, certo che sarà sempre di competizione, competizione e anche quindi conflittuale, ma per quanto possibile riducendolo al piano appunto tecnico, economico, commerciale. È possibile questo, e questo dobbiamo curarci noi europei, perché noi europei o gli Stati Uniti vanno nella direzione che ho detto, oppure noi europei saremo costretti a che cosa? Beh, a diventare una provincia americana come stiamo diventando. È molto semplice. Senta, lei ha detto due cose estremamente interessanti. La prima riguardo alla guerra. La guerra in Ucraina ha sparigliato le carte. Questo ce lo dobbiamo dire, no? Ha sparigliato le carte e rispetto a quello che sta accadendo l'America ha continuato a muoversi secondo un principio di primato per cui, diciamo, la sua politica era la politica che doveva decidere, che doveva risolvere, che doveva stabilire e che invece in questo momento non ha fatto altro che spostare il baricentro verso Oriente, no? Verso la Cina, verso altre alleanze addirittura a volte poco immaginabili come quella, per esempio, tra l'Arabia Saudita e l'Iran, no? Arabia Saudita che era considerata un alleato strategico fondamentale dell'America e che si va a mettere, diciamo, a stringere la mano al principale in questo momento nemico dell'America nel Medio Oriente. Allora, diciamo, qui c'è stata una incapacità di vedere che cosa stava accadendo proprio perché chi la gestiva questa politica la vedeva in un modo antico, vecchio, superato? Grazie a tutti.